Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Due botteghe artigiane, sette locali e undici negozi. Sono 20 quest'anno per la provincia di Sondrio i riconoscimenti di regione Lombardia alle attività più longeve che vanno così ad arricchire l'albo regionale delle attività storiche di tradizione che ora comprende in totale 3.302 imprese. Per Valtellina e Valchiavenna tra queste 20 new entries spicca per anzianità la fa legnameria dell'oca di Morbegno, fabbricazione di porte e finestre in legno da più di un secolo, dal 1919 per l'esattezza. A superare il secolo anche rota abbigliamento di Sondrio in attività dal 1922. Del capoluogo anche un'altra vera e propria istituzione nel commercio al dettaglio di frutta e verdura. Si tratta dal 1930 di Bundin. Tra le attività riconosciute come storiche, le più giovani con soli 40 anni tondi di attività sono entrambi i ristoranti, il Vecchio Mulino di Sondrio e l'Albergo Bucaneve di Valmasino. Infine una curiosità, a guidare la classifica delle attività che hanno ottenuto riconoscimento ci sono Sondrio con tre attestati e a pari merito Livigno e Morbegno con due per ciascun comune. Altrettanti se li ha aggiudicati anche la piccola Torre Santa Maria con la macelleria Salumeria Cometti fondata nel 1952 e il giovane, si fa per dire, ristorante al Prato in attività dal 1982. L'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi sottolinea come il premio sia il nostro grazie a chi con il suo lavoro quotidiano fa grande la Lombardia. Si tratta di attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico prosegue. Il marchio è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale offrendo servizi e prodotti di qualità.